il duca di sussex sta ora provando come americano dopo aver trovato nessun successo come inglese secondo un commentatore reale il principe harry sta tentando di personificare il sogno americano e abbandonare il suo personaggio di britannico in esilio reale per liberarsi dalla sua vita precedente questo secondo petronella wyatt giornalista e amica della matrigna di harry la regina camilla che crede che questo cambiamento nel suo carattere potrebbe essere una nuova tattica per lui l'autore stava parlando dopo che il marito di camilla il re carlo terzo fu ufficialmente riconosciuto durante l'incoronazione scozzese a edimburgo è passata a discutere di harry che insieme a sua moglie megan markle e ai loro due figli piccoli ha saltato l'evento ufficiale nonostante fosse una delle occasioni più importanti di suo padre da quando è diventato monarca l'evento è avvenuto due mesi dopo essere stato ufficialmente incoronato re il 6 maggio nell'abbazia di westminster a londra uno spettacolo a cui il principe di 38 anni ha assistito ma quest'ultimo affronto arriva mentre le relazioni tra ferry e la gran bretagna e la monarchia continuano a toccare nuovi minimi e per la signora wyatt è la prova che ferry sta ora tentando di reinventarsi come americano ha detto a gb news penso che non abbia avuto successo come inglese e ora ci sta provando come americano l'autore ha aggiunto penso che ora stia cercando di personificare il tipo di sogno americano e di tagliarlo come una specie di ragazzo umile rispetto a un inglese in esilio reale che non funziona più questo potrebbe benissimo essere una nuova tattica per lui grazie grazie